È ricoverato all'ospedale di Chieti dove resta sotto osservazione un imprenditore di 56 anni di termoli coinvolto in un'aggressione subita nella giornata di giovedì 11 aprile nei pressi del casello di Lanciano dell'autostrada 14. In base al racconto che l'uomo ha fornito agli investigatori, tutto sarebbe avvenuto poco prima di pranzo, un appuntamento con un conoscente di circa 50 anni, originario del Veneto, che già altre volte aveva incontrato per un caffè o motivi di lavoro, che rischiava però di avere delle conseguenze ancora più gravi. Per cause da accertare, l'imprenditore termolese è stato colpito alle spalle con un taser, la pistola elettrica in dotazione alle forze dell'ordine, utilizzata per stordirlo con alcune scariche di elettricità. Non solo l'aggressore, approfittando dello stato confusionale generato dall'arma di incerta provenienza, è riuscito a legargli i porsi con delle fascette di plastica e a quanto pare era intenzionato a chiuderlo a bordo del suo furgone, configurando così anche l'ipotesi di un eventuale rapimento. L'uomo, colpito anche con pugni e calci, è però riuscito a divincolarsi e a chiedere aiuto, fino a quando due passanti hanno dato l'allarme, chiamato l'ambulanza e i carabinieri. Ha riportato diverse ferite alla testa ed è stato medicato dai sanitari dell'ospedale di Chieti, indegenza intensiva breve, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Il cinquantenne si è invece dileguato e diretto verso le regioni del nord. La ricostruzione al vaglio dei militari che hanno raccolto le informazioni sull'identità dell'aggressore per approfondire i contorni della vicenda e capire qualcosa in più, in collaborazione con la compagnia Vereta, anche sulla pistola, impulsi elettrici utilizzata. Si cercano testimoni, altri elementi utili per fare chiarezza sull'accaduto. Non si escludono ulteriori sviluppi.